Poteva andarci peggio? Libertà, perché dovrei tenerci tanto? Non te l'hanno mai detto. Non mi hanno mai detto cosa? Per un bene superiore, dei sacrifici vanno affrontati. Io lo so chi sei. E non sei un principe d'Egitto. Tu sei nostro fratello. Sacrifici. Ramses, cosa vedi? Schiavo. Il mio popolo. Cos'è? Io mi rimango a farlo. Vuoi che io lasci partire il tuo popolo? Ramses, ti prego. Vai via. Lascia partire il mio popolo. Abbandona questa futile missione, Mosè. No! Per quando tu hai cominciato a occuparti degli schiavi? Tutto quello che credevo. Tutto quello che sono è una mezzogna. Questa storia ora deve finire. No, Ramses. È solo il principio.